Volano bassi, sembrano stremati. La moglie del taglialegna ha bisogno del nostro aiuto. È troppo presto, chissà. Conosci Patti. La nuova creatura sta per veder la luce. Che cosa avete fatto, mio figlio? La natura sta facendo il suo corso. E il nostro compito è assecondare ogni suo volere. La natura still si sta per veder la luce. Grazie a tutti.